non so se te l'avevo già detto ma te lo dico adesso quello di quest'anno è stato davvero un rientro al lavoro con il botto tutti quanti i clienti probabilmente un po allarmati da quello che è stato il primo video dell'anno si sono soffermati a pensare a riflettere molto sul tema della sicurezza e la domanda comune è stata sempre la stessa ovvero come ci proteggiamo da virus e malware nel 2024 che cosa è cambiato rispetto al 2023 ebbene le differenze ci sono sono sostanziali ne abbiamo parlato ma per fortuna ci sono anche degli adeguati strumenti di protezione che non mancheremo di mettere in atto e allora non perdiamo tempo e andiamo a vedere quali sono i migliori strumenti per la protezione dei nostri computer nel 2024 ti senti pronto iniziamo prima di vedere quali sono gli strumenti che ti suggerisco di usare sul tuo computer per proteggerti efficacemente dagli attacchi di malware e di virus ritengo che sia opportuno fare un pochino di chiarezza innanzitutto su quelle che sono le statistiche di attacco perché è bene conoscerle in secondo luogo su quali sono i tipi di malware a cui siamo esposti e naturalmente in terzo luogo su quelle che sono le cosiddette best practice ovvero gli atteggiamenti giusti e le misure da mettere in atto per proteggersi da tutte quante queste minacce e allora andiamo a dare un'occhiata a queste utilissime informazioni come puoi vedere le statistiche sono piuttosto allarmanti ma ti garantisco che se ci si muove nel modo giusto non c'è assolutamente da avere paura ma guardiamo che cosa sta succedendo in questo 2024 ovviamente le statistiche sono relative alla fine del 2023 e all'inizio questi primi giorni del 2024 vediamo che ogni giorno vengono rilevati la bellezza di 560 mila nuovi malware che attualmente esistono oltre un miliardo di malware in circolazione nel mondo che i trojan che vedremo a brevissimo cosa sono sono il 58 per cento di tutto quanto il malware informatico e che statisticamente ogni minuto quattro aziende nel mondo sono vittime di attacchi ransomware e rivedremo a breve anche cosa sono questo tipo di attacchi quasi un computer su due in cina è infetto da qualche forma di malware e di conseguenza molto probabilmente è in grado di trasmetterlo a sua volta l'iran ha il tasso di infezione da malware mobile quindi relativo a smartphone e tablet più alto ed è pari al 30,3 per cento i dispositivi android inoltre hanno 50 volte più probabilità di contrarre qualche malware rispetto ai dispositivi ios quindi se hai un iphone generalmente sei molto più sicuro rispetto ad uno smartphone android negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento del 87 per cento delle infezioni da malware che considerando anche l'aumento dell'uso dello strumento informatico non è così considerevole dato che ci sono molti più dispositivi e quindi percentualmente paradossalmente questi attacchi a quanto pare sono ridotti si prevede che il corso della criminalità informatica raggiungerà gli otto trilioni di dollari nel 2023 e infine una notizia di cui mi dispiace davvero tantissimo le vulnerabilità open source ammontano circa all'ottantaquattro per cento delle codebase cioè l'ottantaquattro per cento circa dei codici dei prodotti open source è vulnerabile e questo mi spinge ad un'ulteriore riflessione perché a questo punto non basta controllare che i software che io propongo siano esenti da malware e da minacce varie ma bisognerà porre anche un ulteriore occhio di riguardo all'aspetto infettabilità e protezione degli stessi e a questo punto visto che nei commenti spesso è emersa una certa confusione riguardo ai vari tipi di minacce andiamo una volta per tutte a fare chiarezza su quelli che sono i tipi di malware e di virus che possono essere contratti sui nostri computer cominciamo dai ransomware che sono quelli che arrivano sui nostri computer crittografano i nostri file li tengono in ostaggio e ci chiedono un riscatto per restituirceli va chiarito che spesso il pagamento del riscatto non comporta necessariamente la restituzione dei file quindi è molto meglio prevenire sicuramente anche dal punto di vista economico che andare a curare questo tipo di minacce abbiamo poi gli spyware che sono quelli che rubano i nostri dati rubano le nostre password rubano le nostre credenziali ma rubano anche i nostri dati personali per farne un uso illecito e spesso rivenderli anche sul dark web in terza posizione abbiamo gli hardware che non fanno niente di male al nostro computer non apportano un danno ma cominciano a farci arrivare una serie di spam pubblicitari senza contare il fatto che spesso fanno anche una procedura che si chiama hijacking cioè dirottano le nostre ricerche sul web su siti da cui hanno ricevuto dei soldi al quarto posto abbiamo i worms che sono dei virus che possono avere un ventaglio di payload cioè un ventaglio di potenziali minacce per il nostro computer che hanno la caratteristica in particolare di trasmettersi da un computer all'altro per mezzo di chiavette di allegati e di molti altri strumenti e mezzi di infezione veniamo ai troians che sono dei virus che arrivano sul nostro computer travestiti da altri programmi siamo convinti di scaricare un programma lecito che però al suo interno contiene del codice malevolo che può apportare danni di diverso genere ai nostri computer ed infine le botnets quelle che rendono i nostri computer degli zombie ovvero dei computer controllati dall'esterno senza che noi ce ne possiamo accorgere un uso tipico di questi zombies è in un tipo di attacchi ulteriore che si chiama ddns cioè distributed denial of service in cui il nostro computer diviene uno dei tanti che vanno ad attaccare un particolare bersaglio senza che noi ne siamo a conoscenza ma infine un'altra cosa va aggiunta e riguarda il metodo di diffusione di tutte quante queste minacce devi sapere che l'80 per cento delle minacce viene veicolata sui nostri computer per mezzo di allegati infetti e solamente il 20 per cento arriva per mezzo di software infetti o di pagine infette che andiamo ad aprire o a scaricare su internet e veniamo a quelle che non le ripeteremo mai abbastanza sono le best practice che ci servono a proteggere i nostri dispositivi naturalmente al primo posto c'è l'uso di una autenticazione multifattoriale come le paschi oppure il codice di sicurezza da ricevere sui nostri dispositivi mobili nel momento in cui effettuiamo l'accesso ad un account email in particolare evitare naturalmente i link sospetti che chrome ad esempio individua e ci segnala sui nostri computer con avvisi come quello che ti sto mostrando di prestare estrema attenzione a quelle che sono le impostazioni di sicurezza delle nostre email come tutta questa serie di avvisi che ti sto mostrando in questo momento a cui bisognerà sempre prestare la massima attenzione effettuare regolarmente il backup dei nostri file critici su un dispositivo separato quindi da non tenere collegato al computer ma da riporre in un cassetto e collegare nel momento in cui abbiamo bisogno di effettuare il backup stesso oppure un ripristino dei file contenuti sul dispositivo di tenere sempre i nostri dispositivi aggiornati e questo non riguarda solo come ripetiamo sempre gli aggiornamenti del sistema operativo ma anche di tutti quanti i software che abitualmente usiamo sulle nostre macchine ed infine naturalmente di rimuovere i download malevoli quelli che ci vengono segnalati dall'antivirus cancellandoli definitivamente per non correre rischi e veniamo a quelli che possono essere gli strumenti per l'individuazione e la rimozione delle minacce sulle nostre macchine quello che consiglio sempre anche in questo caso è un abbinamento tra un software principale ed un software secondario il software principale deve sempre essere un antivirus che abbia la funzionalità di scansione in tempo reale in modo da essere costantemente protetti dall'ingresso di minacce e a questo può essere abbinato un antispyware oppure un antimalware che abbia la funzionalità di scansione on demand in modo tale da effettuare un controllo incrociato per le minacce che potessero essere eventualmente sfuggite al primo software se come antimalware o antispyware anche quest'anno ti consiglio senza dubbio di utilizzare malwarebytes antimalware oppure super antispyware di cui abbiamo parlato in video precedenti come software principale sarà il caso di fare qualche precisazione su internet si possono trovare una serie di classifiche come quella che ti sto mostrando a puro livello di esempio su quelli che sono gli antivirus migliori e più consigliati per quanto concerne l'anno 2024 tuttavia bisogna precisare che il nostro è un caso particolare ed è particolare perché noi andremo ad utilizzare come abbiamo appena detto due antivirus che dovranno lavorare in concerto tra loro e questo fa sì che l'antivirus principale debba avere delle caratteristiche di leggerezza ed efficienza tali da combinarsi con il primo e in questo caso la mia scelta va a cadere come l'anno scorso su microsoft defender antivirus cioè il software predefinito di windows che tutti quanti abbiamo preinstallato sul nostro pc che svolge egregiamente il suo lavoro sia insieme a malwarebytes antimalware che a super antispyware tuttavia per quanto riguarda le minacce di quest'anno c'è anche un'ulteriore scelta molto interessante che ho avuto modo di testare negli ultimi mesi e che ha dato dei risultati davvero soddisfacenti sovrapponibili e in certi casi anche superiori a quelli di microsoft defender antivirus ed in questo caso si tratta di bit defender andiamo a vedere insieme come scaricarlo configurarlo ed installarlo la prima cosa da fare sarà come sempre aprire il nostro browser una volta aperto nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettueremo la ricerca e faremo riferimento al primo risultato e cioè quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it andiamo ad aprire il sito ed una volta aperto ci porteremo in alto sulla sezione downloads nella pagina che si apre scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare l'installer del bit defender antivirus questo qui facciamo clic sul pulsante azzurro per effettuare il download attendiamo alcuni secondi e una volta che il file sarà stato scaricato ci basterà fare doppio clic sulla cartella compresse per andare ad aprirlo ti ricordo che nel caso in cui non trovarsi il file potrai utilizzare la lente di ricerca qui in alto e scrivere bit defender antivirus per trovare comunque il link di download chiudiamo la pagina del nostro browser facciamo doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa ovvero quello che si chiama bit defender underscore av free punto exe accettiamo per mezzo del pulsante sì che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo e partirà il download del nostro antivirus che durerà solo pochi secondi ed ecco fatto in soli tre paralli di tempo il nostro bit defender security è stato scaricato quello che dobbiamo fare a questo punto è spuntare la casella in cui accettiamo l'accordo di abbonamento e se lo riteniamo ti consiglio di farlo lasciamo spuntata anche la casella relativa ai rapporti prodotto che serve nel caso in cui contraiamo un virus particolare a inviarne direttamente un campione a bit defender in modo che venga analizzato a questo punto facciamo clic sul pulsante installa qui al centro per procedere con l'installazione che durerà qualche altro tarallo ok il nostro software è stato installato e a questo punto possiamo fare clic su avvia valutazione del dispositivo per verificare che non ci siano virus pregressi facciamo clic e attendiamo anche in questo caso il termine della valutazione buttiamo giù la finestra per vedere che cosa succede e attendiamo qualche secondo di nuovo ok anche la nostra valutazione è terminata per fortuna non ci sono segni di minacce a questo punto quello che dobbiamo fare è un bel clic su questo pulsante azzurro in basso per andare a creare un account che sarà necessario per poter utilizzare bit defender quello che ci verrà chiesto è di inserire il nostro nome il nostro indirizzo email e di scegliere una password facciamolo e al termine andiamo a cliccare sul pulsante crea account facciamo clic sul pulsante continua e vedremo che il nostro abbonamento gratuito è stato attivato facciamo clic sul pulsante fine ed attendiamo il termine della configurazione come vedrai l'antivirus predefinito quindi il windows defender si disattiverà automaticamente per far spazio a bit defender antivirus che prenderà il suo posto e agirà come antivirus principale non ci sarà bisogno di fare assolutamente nient'altro e direi proprio che in questo modo anche per il 2024 il tuo computer sarà in una botte di ferro ma l'ulteriore raccomandazione è sempre quella di tenere il cervello acceso e riflettere prima di fare qualsiasi click soprattutto se ci troviamo su internet o per quanto riguarda gli allegati di posta elettronica e veniamo ai ringraziamenti del giorno che faccio con molto piacere a franz valli ea luca per essersi abbonati al canale e quindi gli do il benvenuto ufficiale a bordo della community dei gentiluomini e l'ultimo a megawalter 46 per il suo generosissimo super grazie e a proposito degli abbonamenti ti preavviso che sto per attivare sarà attivo da un momento all'altro un nuovo livello di abbonamento che consentirà la visione in anteprima dei video appena li registro in modo tale da non dover attendere l'uscita ufficiale per vederla con tutti gli altri ma come ormai ben sai un video non può essere considerato completo senza l'ultimo ringraziamento e cioè quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo cosa che anche oggi ti ha fatto particolarmente onore data la sua lunghezza mi hai fatto compagnia non mi hai fatto sentire solo durante tutti questi minuti e come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima